Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Nel pensare le due lezioni che trovate caricate oggi, venerdì 17 aprile, ho cercato appunto di strutturarle in modo che potessero comunicare tra di loro la lezione di storia e quella di geografia, anche perché oramai siamo arrivati a un punto oramai finale del nostro programma di storia che riesce ad andare per alcuni aspetti a braccetto con alcuni argomenti che affrontiamo in geografia. Già questo lo abbiamo notato parlando per esempio della decolonizzazione, del neocolonialismo, però per la lezione che vi propongo oggi in storia e per quella che vi propongo in geografia, ora non so in che ordine lo guardate ma ve lo segnalo, ve ne accorgerete anche voi, ho pensato di focalizzare appunto l'attenzione su un argomento che possa farvi entrare un po' più a fondo in una serie di problemi e di questioni che abbiamo già affrontato. Infatti anche per storia parleremo della Cina, discorso che per geografia abbiamo iniziato nella precedente lezione che con quella di oggi concluderemo e per questo appunto vi invito a recarvi insomma sul vostro libro alla pagina 287. Nell'ordine delle pagine del libro quindi torniamo qualche pagina indietro rispetto a quelle che vi siete visti assegnate nelle ultime occasioni. Mi dispiace che la gestione diciamo del testo risulti un po' confusionaria forse per voi. In realtà come avrete capito dopo che abbiamo chiuso la trattazione della seconda guerra mondiale siamo entrati in quella fase di dopoguerra che naturalmente ci permette di muoverci in tantissime direzioni, di considerare le realtà, le vicende di paesi molto diversi e lontani tra di loro. Di conseguenza anche questo muoversi tra una pagina e l'altra del libro non dovete patirlo come diciamo confusione ma piuttosto cercare di gestirlo come strumento che ci suggerisce una volta di più la complessità di questa fase storica e il fatto che la si debba veramente considerare per nuclei. Cosa succede e dove e quando. Anche per questo avrete visto vi ho assegnato come compito dove ho potuto ma probabilmente lo faremo ancora, della realizzazione di mappe concettuali. L'ultima era anche particolarmente complessa perché metteva insieme argomenti densi e sostanziosi. Però appunto vorrei che vi svincolaste dall'idea del libro come serie di capitoli e veramente entraste per ciascun evento che studiate nella contesto in cui esso si colloca. Quindi sappiate commuovervi il più possibile con agilità. Allora, a questa pagina 287 e a quella successiva che appunto esamineremo in questa lezione si parla, come già potete vedere, della Cina. Ecco, abbiamo già anticipato molti aspetti. Qui cerchiamo di procedere con ordine. Infatti vedete dal titolo La Cina dalla fine dell'impero a oggi. In realtà si tratta di un escursus storico abbastanza sintetico nella parte che riguarda l'inizio della storia cinese relativa al programma che stiamo analizzando quest'anno quindi tra fine ottocento e novecento e si concentra invece di più sulla storia novecentesca e cita, e lo vedremo a brevissimo, una figura che in realtà abbiamo già incontrato nella scorsa lezione di geografia. Vi ho promesso che sarei rientrata sull'argomento per spiegarvi una serie di fatti che venivano accennati e non spiegati. Ecco, questa sarà l'occasione per farlo. Innanzitutto ci dovremo ricordare che la Cina è stata un vasto impero fino all'inizio del 1900, un impero tanto esteso quanto fragile. Non era infatti mai stato totalmente colonizzato dagli europei nel corso dell'Ottocento, ma abbiamo già visto come le potenze europee e in particolare l'Inghilterra si fossero approfittate della sua fragilità per imporre alla Cina dei rapporti commerciali vantaggiosi per gli europei e svantaggiosi per i cinesi a seguito di guerre. E qui vi rimando alla pagina 40 del libro, quindi approfittate dell'occasione anche per ripassare questo argomento, là dove si parla della guerra dell'Opio, che come sapete si svolse tra gli anni 40 e gli anni 60 dell'Ottocento e si concluse con l'imposizione da parte della Gran Bretagna alla Cina di accordi commerciali definiti iniqui già all'epoca, proprio perché ingiusti per la Cina e vantaggiosi solo per la Gran Bretagna, che prevedevano tra l'altro anche la vendita dell'Opio all'interno dei confini cinesi, Oppio che la Gran Bretagna produceva in grandi quantità in un'altra sua colonia, l'India. Questa situazione continuò fino a una data, il 1912. In quell'anno Sun Yat-sen, che era capo di un movimento nazionalista assorto in Cina, riuscì a deporre l'ultimo imperatore. L'impero cinese quindi finisce nel 1912 e inizia allora una repubblica guidata da Sun Yat-sen e però fortemente condizionata dagli ambienti militari, da quelli che il vostro testo chiama Signori della Guerra. Questa giovane repubblica quindi sin dalla sua nascita fu segnata da grandi tensioni, tanto è vero che meno di dieci anni dopo della sua fondazione, nel corso degli anni 20, scoppiò una vera e propria guerra civile, tra due fazioni, tra due gruppi che facevano capo appunto a due personaggi, che ora vedremo, che avevano idee opposte in campo politico. Da una parte il generale Chiang Kai-shek, capo del partito nazionalista, quindi legato a quelli che sono gli ambienti militari e conservatori, e dall'altro Mao Zedong, che abbiamo già citato che ora vedremo un po' più di analizzare nel dettaglio, questa figura che vedete qui sulla destra, che era invece capo di un partito comunista, appoggiato soprattutto dalla fascia più povera della popolazione, in particolare da quella contadina. Qui li vedete in una foto insieme, anche se la loro vicinanza fu breve. Diciamo che questo fu il clima che caratterizzò gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando la Cina subì, e inizialmente temette, poi in parte dovette anche subire, l'invasione giapponese e quindi di fronte a questa situazione i due leader, anche se nemici, diciamo si allearono e si unirono contro i giapponesi. La guerra civile naturalmente tornò a scoppiare al termine della Seconda Guerra Mondiale. Si arrivò al 1949, anno in cui le forze di Chiang Kai-shek furono sconfitte da quelle di Mao Tse-tung e nacque la Repubblica Comunista, denominata Repubblica Popolare Cinese, quindi una nuova repubblica dalla quale le forze nazionaliste furono cacciate, tant'è vero che si ritirarono sull'isola di Taiwan, quella repubblica che esiste tuttora, diciamo, della quale l'attuale Stato si ritiene erede. Qui vedete una fotografia di Mao davanti a un microfono, quindi ancora una volta il capo, il leader che arringa al suo popolo proprio in quegli anni. E qui un manifesto che ci conduce verso quello che sono, diciamo, gli aspetti caratteristici di questo nuovo Stato. Quella che nasce nel 1949 in Cina è una Repubblica Comunista, uno Stato che inizialmente è vicino all'Unione Sovietica, ma che presto se ne distaccherà Mao cerca una indipendenza, diciamo, un non condizionamento da parte dell'Unione Sovietica, ma che si ispira naturalmente alla base del pensiero politico e economico comunista. Infatti, come ricorda il vostro libro, tutte le attività economiche vengono nazionalizzate a partire dall'agricoltura che fino a quel momento era stata, diciamo, la base dell'economia cinese, tant'è vero che vengono create appunto delle proprietà comuni, delle grandi cooperative agricole che prendono nome di comuni e comincia anche a essere strutturata una industria che presto si svilupperà. L'industria che permise alla Cina di produrre ciò che serviva senza dipendere dalle importazioni. Ecco, voi sapete che l'autarchia diventa una delle, diciamo, così, degli scopi, delle prerogative di tanti regimi autoritari e in effetti anche quello di Mao, divenne molto presto un regime a tutti gli effetti totalitario. Anche in Cina la propaganda viene costruita, diventa martellante. Il vostro testo ricorda che i cinesi furono sottoposti a un vero e proprio indottrinamento. Cosa vuol dire indottrinare? Insomma, diffondere, costringere nella mente delle persone le idee politiche, le ideologie dominanti a prevalere con ovviamente un'eliminazione, una punizione e persecuzione sistematica di tutte le opposizioni. Questo indottrinamento si legava anche al fatto che in realtà l'esperimento economico avviato da Mao non funzionò bene, non funzionò assolutamente subito, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti contadini che lo avevano sostenuto. Infatti i contadini cinesi non erano abituati a lavorare in ambienti collettivi di proprietà, collettiva così ingombranti come struttura e organizzazione. Erano abituati a svolgere il loro lavoro in maniera abbastanza autonoma e quindi naturalmente questo creò dei disagi. Oltretutto, e questa fu la sfortuna ovviamente legata alla meteorologia, vi fu una serie di cattive annate di raccolti e quindi sul paese si abbatté fino ai 50, inizio anni 60, una terribile carestia. I primi 15 anni di vita della Repubblica Popolare Cinese, quindi nonostante il trionfo iniziare, non furono facili. Cosa successe negli anni 60, 70 e 80? Ecco, girando pagina, la pagina 288, vi ho qui eliminato le ultime tre righe, diciamo, salvo riferimento alla morte di Mao Zedong da collocare nel 1976, ecco, gli anni 60 sono gli anni in cui, diciamo, il nuovo regime repubblicano raggiunge un punto di estremismo molto forte. Il 1966, infatti, è la data della cosiddetta rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale fu un'ondata di manifestazioni che il governo di Mao organizzò, insomma, facendo in modo di spronare gli ambienti giovanili, soprattutto appunto quelli studenteschi, per far fronte al, diciamo così, al malcontento che cominciava a diffondersi negli anni 60 in Cina, proprio di fronte agli insuccessi economici. In cosa consistette? Una serie di, appunto, ribellioni, manifestazioni che volevano colpire alcune categorie della società, naturalmente gli avversari politici di Mao, ma anche intellettuali che erano stati in parte critici, insegnanti, insomma, i giovani cinesi venivano invitati a ribellarsi anche in maniera violenta. C'è avuto una serie di scontri e di ondate repressive molto forti. Qui vedete una immagine dei membri delle cosiddette guardie rosse, questo era il nome che veniva dato alle organizzazioni studentesche che organizzarono questa serie di rivolte chiamate rivoluzione culturale. Vedete che qui hanno in mano il cosiddetto libretto rosso, che era questa antologia, questa raccolta di citazioni tratte dai discorsi di Mao Zedong, che per la prima volta era stata pubblicata tre anni prima, nel 1963, ma che nel 66 fu ristampata in tantissime copie e diffusa e divenne una sorta di bibbia laica, diciamo così, di riferimento per questi giovani rivoluzionari. Veniva portato nella tasca della giacca e diventa anche questo uno strumento di propaganda molto forte. Del libretto rosso e delle operazioni legate alla rivoluzione culturale parla Geostorie, il fascicolo abbinato al vostro libro di geografia, alla pagina 58-59. Questo è uno screenshot della pagina 59 che ovviamente vi lascio come memoria di questi due nomi che sul libro non avete visto di storia, ma che vorrei che ricordaste. Ecco, date un'occhiata con una semplice lettura a entrambe le pagine per magari fissare meglio i concetti che stiamo trattando qui. Dopo la stagione della rivoluzione culturale arrivarono gli anni 70, in cui la Cina di fatto vive un momento di profondo cambiamento in campo economico, con quello che vengono chiamate le quattro modernizzazioni, c'è una modernizzazione economica che deve riguardare l'agricoltura, l'industria, la ricerca scientifica e tecnologica e la difesa, quindi l'ambito propriamente militare. Fu introdotta una libertà di impresa che prima nel stretto ambito comunista, seguito in maniera rigorosa dal governo, non era stata concessa. Certo, da questo momento iniziano le basi del futuro grande sviluppo industriale, soprattutto basato sul basso costo della mano d'opera, della quale abbiamo ampiamente parlato anche in geografia, cominciano i primi scambi commerciali con l'Occidente. Ma pur incominciando una stagione di apertura in campo economico, lo stesso non si può dire per quello politico. Infatti, qui ritroviamo immagini che vi ho già mostrato nella lezione di geografia, nel 1989 vi fu in piazza Tiananmen a Pechino una grande rivolta da parte degli studenti che si erano riuniti per protestare contro la mancanza di libertà politiche, ancora purtroppo molto forte nel governo popolare cinese. Questa rivolta che chiedeva maggiore libertà politiche fu spenta nel sangue dall'esercito cinese inviato a sparare sulla folla, persino pensate con carri armati, quindi insomma l'intervento fu drastico e la rivolta fu veramente spenta in maniera tragica. Di piazza Tiananmen l'abbiamo appunto già parlato in geografia. Il vostro testo dagli anni 80 che abbiamo appena visto passa agli anni 90, quindi completa il quadro con una serie di affermazioni, di osservazioni che troverete meglio sviluppate nella lezione di geografia di oggi, che riguarda appunto lo sviluppo caotico dell'economia cinese, caotico ma per certi aspetti incredibilmente ampio, tant'è vero che appunto l'apertura dei rapporti con l'Occidente e una serie di sviluppi in campo industriale ha portato la Cina ad essere una delle maggiori potenze economiche mondiali, come sapete. Questo però anche a scapito della giustizia sociale dal momento che ci sono ancora grandi disparità all'interno della società e anche con gravi ricadute sull'ambiente, come appunto il grandissimo inquinamento. Abbiamo appunto completato questa panoramica che spero riuscirete a integrare bene con la lezione di geografia. Ciao!